buonasera ragazzi buonasera papino buonasera a te napoli lazio ragazzi siamo in tribuna questa sera non stiamo andando a uscire ma è meglio stare con la vita in questa partita già da testa mi ha rompere questo tabù perchè la lazio stava facendo di poco non ha cominciato a me credo noi a me pensi iniziamo la partita perché sarei si è cominciato a me pensi non voglio sapere la partita sta per iniziare la partita sta per iniziare speriamo ragazzi potrò oltre bene io non c'è io non c'è dai 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 non iniziamo non iniziamo dai calma 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 noi non c'è ma non ci so, c'è un buon sabbetto che è un barbetto due o stai vai parola tira che va bravo bravo guida bravo 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 attenzione le trappole c'è stanno in atto il trappole c'è spattato è morto tu hai fatto quattro pasticce non lo spettano no mamma non c'è c'è non è fatte non è fatte non è fatte la stessa si tira no non c'era non c'era no vai giù vai giù vai giù vai giù stupido dai stupido dai sanzioni ne richiamo gollo dai sanzioni ne richiamo gollo che lo rimbarla troppo grosso che lo piglia e fa nada come lo voglio 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 avalità tì eee go Czadiski! 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 la mattata io c'è un droga misto oh 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 wow oh 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 mio sangue ohhhh non va a fare una spazio metto mamma ma che signore vai a un jablino dai che bello che bello che bello non due riguora oh ma guarda la esperienza lei ma non c'è il mio ma mamma fuori gioco oddio vado ma mi hai detto vado aiuto che vado 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 ma che ci faccio ma che sta succedendo 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 ma che sta succedendo